questi che avete visto sono cani da conduzione io ho due maschi qui al momento dick d'arco e già li conoscete sono molto bravi addestrarli è un lavoro che richiede molto impegno e molta costanza tutti i giorni bisogna sgridarli se fanno qualcosa di sbagliato e bisogna gratificarli con due coccole se invece si comportano bene sono razze principalmente lagorai belga australiani quindi incroci di queste razze da cani da conduzione e servono appunto per direzionare il gregge nel momento in cui ci si sposta e nel momento in cui si pascola per riuscire a mantenere le pecore dove devono mangiare e non altrove dove potrebbero anche fare danni alle culture alle vigne ai fruttetti ai giardini eccetera eccetera la fase più delicata dell'addestramento è sicuramente quando sono molto piccoli in questa fase bisogna assolutamente evitare che prendano brutti vizi e soprattutto bisogna crescerli in mezzo al gregge insegnandogli quindi giorno dopo giorno i ritmi del gregge e le varie abitudini i vari comandi in questa fase è importante per esempio non farli giocare con i bambini perché altrimenti diventano cani da compagnia e non permettere a chiunque passa di andarli a carezzare perché altrimenti nel momento in cui stanno lavorando se vedono persone possono abbandonare il lavoro per andare a prendere le coccole da grandi invece sono cani che possono essere coccolati se il padrone è d'accordo e soprattutto quando non si sta lavorando perché mentre si lavora il cane deve assolutamente essere concentrato in quello che sta facendo quando vengono lasciati soli vicino alle pecore e il padrone si allontana però è assolutamente sconsigliato avvicinarsi per fargli le coccole perché in quel momento subentra proprio in loro l'atteggiamento di guardiania e da essere teneri cuccioloni giocherelloni possono diventare anche mordaci fin da piccoli i cani che poi risulteranno essere buoni cani da conduzione sono iperattivi e quindi la maggior parte del lavoro e fermarli potete vedere Dick che è un cucciolo che se non lo fermo continua ad ammucchiare le pecore e le sposta mentre invece in questo momento devono mangiare quindi devo continuamente richiamarlo Dick vieni qua lasciale mangiare dai vieni a cuccia qua dai fai la cuccia qua questo può sembrare un atteggiamento disubbidiente e in effetti lo è però quando sono piccoli se non sono così non saranno mai i cani che diventeranno bravi i cani vanno fermati un cane può avere voglia e quindi aver bisogno di essere fermato per non disturbare le pecore che mangiano ma se un cane invece non ha voglia di fare questo lavoro non glielo insegnerai mai non puoi spronare un cane che non ha voglia a fare un lavoro di conduzione quindi Dick promette bene è un cane impegnativo alla sera arrivo con le tonsille gonfie da quanto mi fa urlare per fermarlo ma sicuramente questo è un buon segno per concludere ci tengo a sottolineare che c'è una leggenda completamente falsa da sfatare ovvero che i cani dei pastori non vengono trattati bene non vengono trattati come si dovrebbe ovviamente le persone sono tutte diverse quindi per ognuno ci sarà la sua storia per quanto mi riguarda tutti i pastori che conosco siamo tutti innamorati dei nostri cani sono animali non sono persone quindi li trattiamo da animali però lungi da noi qualsiasi forma di maltrattamento conducono una vita assolutamente stupenda per loro molto gratificante perché si divertono fanno quello che gli piace altrimenti sono cani che non se non gli piace non lo fanno e noi siamo costretti a regalarli a darli a persone che li tengono in casa perché come dicevo prima se un cane non ha voglia la voglia non gliela infili in testa quindi noi abbiamo cani che si divertono a fare quello che fanno quindi sono estremamente soddisfatti tranquilli equilibrati e noi li adoriamo ciao a tutti vi ringrazio per averci seguito e spero che questi consigli possano esservi utili ciao ciao dic dove è andato dove è andato dic ha andato a bere aveva sete mi saluta solo d'arco solo d'arco mi saluta solo d'arco solo d'arco